Il titolo è la comodità, la comodità è difficile da descrivere, sarebbe un attrezzo purtroppo utile e comodo per combattere alcuni tipi di malattie, quasi tutte le malattie un po' più serie hanno bisogno di questi tipi di comodità, la cosa davvero ridicola e poi uno scherzo del destino praticamente, che io per via di questa malattia, di questa cura ho dovuto tenere la mascherina per dei lunghissimi mesi, stiamo parlando di una leucemia per cui dopo il trapianto ero abbastanza debole e fragile per cui mi dovevo proteggere e ho dovuto usare questa mascherina per un tempo molto lungo, attualmente io mi rifiuto in qualche modo per quel che posso ovviamente di portarla, ma vedo che tutto il mondo intorno a me la sta usando e quindi questa cosa è veramente paradossale nel momento del lancio del libro.